come faccio vedere quello che sto riprendendo con una pocket cinema camera a 4k o metto un monitor esterno che è l'opzione 1 e chiaramente con cavo hdmi oppure uso un altro sistema che è quello che ho scelto ho trovato qualche mese fa sul mercato un trasmettitore di segnale wireless che si chiama cinei haxun che è una figata pazzesca praticamente con meno di 200 euro riuscite a mandare un segnale video hdmi dalla camera a fino a 5 dispositivi ios o android nel caso specifico io cosa ho fatto mi sono messo un vecchio iphone girato verso di me che sta trasmettendo segnale ed è come se fosse un monitor esterno qual è il vantaggio rispetto a un monitor che io posso mandare segnale video lì qui su questo ipad e anche qui ciao